Fratelli e sorelle, con questa domenica, capitolo tredicesimo, sempre di San Matteo, si conclude il discorso di Gesù sulle parabole. Ne vengono sintetizzate tre. La prima quella del tesoro nascosto, per cui l'uomo lo scopre, lo nasconde, va, vende e va e compra quel campo per avere il tesoro. Poi la pella preziosa, scopre un contadino questa pella preziosa, va, vende tutti i suoi veri per comprare quel campo in cui ha nascosto la perla. E poi la rete che raccoglie pesci buoni e pesci cattivi, che si richiama un po' al tema della domenica scorsa. Le prime due parabole, quindi, sono incentrate non tanto sul personaggio, ma sul comportamento che hanno di fronte a questa scoperta. Cioè la condotta di quegli uomini che fanno la scoperta. Una volta che sono sicuri di avere trovato il tesoro, vanno e vendono tutto quello che hanno. È un caso straordinario. È la grande occasione della loro vita. Ecco perché prendono la decisione di vendere tutto. Quindi va a questo punto fatta un'applicazione. Per gli ascoltatori, per noi che ascoltiamo questa parabola, qual è il nostro comportamento? Di fronte alla scoperta che il tesoro della nostra vita è Gesù, quali scelte abbiamo fatto realmente nella nostra vita per vivere, acquistare, scoprire, mantenere, valorizzare questo tesoro? Con Gesù il regno ormai si è manifestato. È l'occasione vera della nostra vita. È un impegno totale, senza compromessi, che deve contraddistinguere la nostra vita. La parabola della rete, all'immagine della parabola domenica scorsa della zizzania, ecco, non fa altro che richiamarci come il giudizio del Signore separa il bene dal male. Ecco allora un'occasione concreta su cui riflettere non soltanto sulle tragedie piccole e grandi, gli incendi a cui giustamente i nostri Vescovi fanno riferimento per dire che si tratta non soltanto di piromani, ma degli assassini, ma della mancanza di giustizia, ancora operai che muoiono sotto il caldo, o operai che muoiono nel posto di lavoro perché mancano le condizioni di sicurezza. La gente che è in Tunisia sceglie di andare a morire nel deserto pur non di farsi deportare o farsi imprigionare. Tentono vie impossibili. Allora di fronte a questi scenari, che apparentemente possono sembrare apocalittici, ma non sono altro che la conseguenza della mancanza della nostra ipocrisia, con la quale non sappiamo scegliere il bene, non sappiamo scegliere la parte migliore della nostra vita. Chiediamo allora come Salomone la sapienza del cuore. Poteva scegliere le ricchezze, ma Dio lo premia, perché di fronte alla ricchezza ha chiesto la saggezza del sapere giudicare fra il bene e il male, non secondo l'opportunismo, il mi piace, la moda che viene imposta dai social o dell'influencer, ma quello che la mia coscienza libera accoglie come messaggio dalla parola del Signore. Ecco perché bisogna chiedere al Signore un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo le promesse, che sono belle, che possono attirarci, ma che poi lasciano il vuoto nel cuore, il vuoto nella nostra esistenza, noi possiamo scoprire il valore, ecco, il valore supremo, assoluto del Regno di Dio. Alla luce della parola del Signore allora accogliamo il Regno di Dio come premessa della nostra felicità, della nostra piena realizzazione. Buona e santa domenica a tutti.